Mirko, intanto piacere della conoscenza, meglio tardi che mai, potremmo dire così, sette anni fa ricordo una trattativa serratissima con l'Empoli, estate 2013. Piacere mio, sì, ci fu una trattativa, poi non so cos'è successo tra le società, io dopo sono rimasto a Empoli, e me personalmente non è che mi era arrivata, so che c'era appunto questa trattativa, ma personalmente non mi era arrivata nessuna offerta concreta, quindi dopo ho proseguito il mio percorso a Empoli e adesso sono felice di essere qui a Pescara. È stato un cammino esaltante il tuo, soprattutto con Sarri, che qui conosciamo molto bene, tante soddisfazioni, poi l'anno della consagrazione del 2015, l'esordio in nazionale. Sì, è stato un bel percorso di tre anni con lui lì a Empoli, con una finale persa in playoff purtroppo, poi l'anno dopo si è riusciti a andare in Serie A, e la salvezza addirittura in un Empoli che era apparito in Serie A quasi come spacciato, invece abbiamo raggiunto la salvezza con quattro giornate d'anticipo, però era anche un Empoli appunto che giocava bene, molti ragazzi ancora oggi sono in grandi squadre, anche il mister Sarri ha fatto quello che ha fatto, quindi ne abbiamo avuto beneficio tutti di quelle annate e io l'ho coronato appunto anche con l'esordio in nazionale, che è stato sicuramente il momento più bello della mia carriera, me lo porterò sempre dentro. A proposito di Sarri, l'anno di Empoli nel 2012, la prima stagione di Sarri a Empoli, ad un passo dall'esonero, poi dopo la vittoria di Lanciano spiccaste il volo. Bravissimo, andò proprio così, purtroppo non avevamo ancora assimilato tanto bene i suoi concetti, mi sapevano fatto sei punti in nove partite, quindi è stato un passo dall'esonero, poi dopo ci fu quella svolta anche col modulo 4-3-1-2 con Saponara trecortista e da di lì è partita questa cavalcata. 34 anni ma ancora tanto da dare, no? Sì, sì, io ho tanta voglia, ho tanto entusiasmo, è normale che ho 34 anni ma dentro mi sento ancora un ragazzino, adesso toccando ferro fortunatamente non ho neanche mai avuto infortuni, cose così, quindi sono a disposizione dell'allenatore, del presidente e poi spero insieme ai miei compagni di regalare qualcosa di importante, di portare entusiasmo in una piazza come Pescara. Ecco, come ti è stata proposta questa possibilità, insomma non ci hai pensato su due volte? No, no, non ci ho pensato, sono sincero, perché poi come ho detto anche 5-6 anni fa era venuto fuori il mio nome, anche alcuni ex compagni che magari sono rimasti, conosco anche Del Grosso, che è rimasto qua a abitare, oppure anche lo stesso Sansovini che anche lui sta qua, quindi ne parlano tutti benissimo di pescare, quindi ho accettato con immenso piacere e mi metto a disposizione. Poi mi ha parlato anche Pucciarelli, insomma, che si dice che potrebbe tornare, non lo so, anzi ci puoi dare qualche news? Ma guarda, io l'ho sentito, sono sincero, l'ho sentito quando è venuto fuori il mio nome qui, per sapere un po' anche, visto che ho la famiglia, la bimba di scrivere a scuola, un po' per quanto riguarda l'aspetto dove poter prendere casa, però dopo l'ho sentito anche abbastanza carico e secondo me se gli viene l'occasione, gli viene proposto l'occasione di tornare, secondo me lui tornerà molto volentieri. Senti, parliamo del tuo ruolo, classico metronomo, metodista, avresti bisogno di due mezziali di gamba? Sì, io ho sempre giocato davanti alla difesa, è normale che, poi dipende un po' anche il tipo di gioco del mister, gli piace molto giocare la palla e quindi per me questo penso che sia un vantaggio, cerco di mettere in campo le mie qualità, poi il resto lo dirà al campo. C'è questo test di lusso col Napoli, la tua ex squadra sarà una grande emozione per quanto ti riguarda, senza pubblico per ovvi motivi. Sì, sì, per me è sempre un'emozione tornare a San Paolo, in questi anni ci sono tornato d'avversario sia con le maglie del Torino e della Spal, ci torno domani con quella del Pescara. Lì c'ho ancora tanti amici, ho vissuto un bellissimo anno che ho fatto anche i miei esordi in Europa League, c'ho ancora tanti amici che giocano lì perché sono stati con me a Empoli e quindi sì, domani sarà per noi la prima tappa di avvicinamento, come ho detto, al campionato. Sarà sicuramente una sfida difficilissima perché giochiamo con una squadra migliore d'Italia e d'Europa forse, però andremo là e cercheremo appunto di fare la partita e cercare di mettere in campo quei concetti che ci ha detto Oddo in questi primi giorni. In quella stagione tanti, troppi campioni? Il Napoli è sempre in quelle squadre lì, ci sono tanti tanti campioni, quindi è anche un piacere a volte andare al campo, cioè anch'io che venivo da Empoli e ritrovare su un esploratorio così, sicuramente è stato un qualcosa di bellissimo. Che cosa ti ha dato di importante appunto Morizzo? Sarà la sua organizzazione tattica, sicuramente quando non hai una squadra magari di campioni che magari ti risolvono la giocata da solo, noi a Empoli eravamo un bel contesto di giocatori, dei bravi giocatori che però nel contesto di Sarri si sono esaltati, si lavorava di squadra, si lavorava uno per l'altro e questo modo di giocare appunto palla bassa oppure giocare sempre in verticale ne abbiamo tratto beneficio in molti. Rivisitando la tua carriera ho visto soltanto quattro gol. Il gol è quello lì purtroppo, a 34 anni magari ci sarà ancora modo di migliorarsi, quindi chissà che quest'anno non riesco a trovare qualche gol, però sì, anche giocando in quel ruolo, soprattutto quando c'era mister Maurizio Sarri, il vertice basso sta più magari anche in copertura quando si attacca, quindi ho trovato pochi gol, quello è vero, però c'è ancora tempo per farli magari. Assolutamente, te lo auguriamo anche perché l'ultimo risale a otto anni fa, ho letto dicembre 2012. Sì, io mi ricordo neanche più, ho passato talmente tanto che non me lo ricordo, comunque ho partito di scherzi adesso, speriamo appunto di trovare anche un gol, però l'importante è sempre il bene della squadra, poi se c'è qualche gioia personale è meglio ancora. Bocca al lupo? Crepi il lupo.